Chi si rivede la Tarros Spezia al Palasprint infatti i bianconeri sconfiggono per 79 a 70 la Leonardo Quarrata nel recupero di Serie C Gold Toscana. Il match era delicato neanche tanto per la quotazione degli avversari con pagine di centro classifica quanto perché a distanza di oltre un mese tra feste e pandemia i tarraussiani tornavano in partita con tanto di complicazioni in tale lasso di tempo a livello di allenamento, preparazione e concentrazione. Il successo consente agli spezzini di mantenere la terza posizione in classifica alle spalle delle due squadre di Montecatini e Terme, la Gemma prima ma con una partita in più e la Erons. Prossimo impegno domenica 30 gennaio sempre alla Spezia ore 18 contro il pericolante Cus Pisa. Nel frattempo di fronte ai pistoiesi in gran evidenza Alessio Bolis con 26 punti il miglior marcatore dell'incontro ma da sottolineare anche l'incedere del giovanissimo Tommaso Pietrini. Sono molto contento di aver potuto dare il mio piccolo contributo alla squadra per questa vittoria molto importante, non soffertissima ma comunque importante perché veniamo da un mese di stop per FES e per il Covid e per la situazione in cui eravamo perché abbiamo avuto molti casi, molte difficoltà in palestra, allenamenti con pochi ragazzi e quindi è stato molto difficile allenarsi, però siamo riusciti a tornare con una vittoria molto importante in casa e adesso testa per la prossima partita, sempre qua al palasprint e domenica alle 6 contro Pisa. Grazie. 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 Grazie.